Scusate, questi bambini oggi sono amicoli, ma domani saranno appunti e fanno delle scelte che tirano due cose che possono anche saldare il video, che può solo un punto dove erano verso, dove erano dietro. Perciò non riesco che siano segni di più importanti. Come li hai visti? Siamo interessati? Era una tematica difficile da fruttare. Una volta che ho accaduto, secondo me, io sono andato più avanti e più avanti degli adulti. Per i bambini non esiste un discorso di bianco, nero, giallo, non so, tutti i ragazzini, insomma, tutti assieme. L'Italia è normale che ha avuto una difficoltà di aiutare. Che venga dall'Africa, che sei male, che sia per te un processo di differenza. Qui io vedo qualche problema che ci vuole fare un'altra politica. E lì posso trovare qualcuno che magari l'obbetta, mi sembrava un'interruzione. Secondo me l'esame è già quello che poi noi vogliamo insegnare, che è giusto rispettare. Perché nella vita il rispetto è un punto da sempre. Questo tu lo scopri sia nella vostra tradizione, ma non lo scopri sia nella vostra tradizione, ma non lo scopri sia nella vostra tradizione. È una cosa interessata. Assolutamente, grazie alla vostra presenza. È molto importante. Grazie. Grazie mille. Grazie.